Buongiorno a tutti ragazzi da SampoTototicoci qua su Minecraft ragazzi Xbox One Benvenuti a nuovo venerdì al canale come sempre Prima di iniziare mi invito a iscrivervi e lasciare un commentino su questo episodio qui E comunque sono super mega contento Perché? Perché finalmente ho trovato la mia prima miniera abbandonata La Mineshaft Ragazzi, ragazzi sono super mega contentissimo Allora facciamo così Scavo ma guardate voi che roba Oh ma stracaso proprio Perché ho voluto scendere Nello scorso episodio avete visto come l'ho scoperto proprio la fine Sono atterrato da qua diciamo in questo buco qui A caso proprio Perché se andavo avanti in quattro blocchi non trovavo niente Guardate un po' che roba voi Allora Wow ragazzi, wow Sono contentissimo Ce la esploriamo tutta, ce la sciaccheggiamo anche tutta ragazzi Voglio assolutamente Però vorrei trovare anche Prendermi alle ragnatele Di solito non le prendo mai Ma visto siccome che non le ho trovate Mai Quindi Visto che ho anche il ferro Dal diciamo Vedete che la Io volevo lasciarla a casa questa addirittura Allora c'è gioia Eccole qua Mo' rimettiamo tutto via Anzi io direi che potremmo mettere addirittura via Qua nella shulker Le cose che diciamo che adesso sicuramente non troverò Tipo la campana I libri Le selle Poi I diamanti no Bah basta per adesso Quindi adesso ragazzi Io con le cesone mi prendo addirittura anche le Ragnatele Wow ragazzi Me le piglio tutte E stiamo qua adesso ragazzi Noi esploreremo tutta Ovviamente qua adesso che sono Arrivato qui Dobbiamo tappare Ah mi prudeva il naso Scusate Non so come mai Che cavolo c'è qua Un fungo Ok Fa niente Io il ferro me lo piglio Chissà cosa troveremo nelle casse ragazzi Chissà cosa troveremo nelle casse Chissà se hanno fatto l'aggiornamento Ok Allora di qua non c'è un bel niente Quindi di qua posso anche tappare Ok Perfetto Di qua ci sarà qualcosa? Ma certo Uh ragnatele ragazzi Ragnatele Ragnatele mele Uh oro 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 Wow Me lo piglio tutto L'oro va sempre bene ragazzi Ci vuole sempre Uh guardate di qua C'è l'altro tunnel Allora di qua Ci sono le ragnatele Che me le prenderò Perfetto Tech Ferro Ok quindi di qua non c'è più niente E quindi qui Si chiude One two three Boh vabbè chiudiamo così Di qua non c'è niente Andiamo di qua Il Ferraz ce lo prendiamo E c'è un altro piano sotto ragazzi Spero che sia bella gigantesca Quindi di qua carbon Quanto che ce n'è Mamma mia ragazzi Oh Totale Totale ragazzi Non capite quanto sono contento Io che finalmente ho trovato questa mine shaft Ok allora qui Non c'è più niente Io però prima di scendere Farei tutto il piano Quindi non andrei di qua Ma Andrei di qua Perfetto Ok niente da fare Mi sa che Uh ragnatele ragnatele Vero 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 Ragnatele ragnatele Voglio prendermi uno stack di ragnatele Allora via la terra E pozione Per fortuna che ce l'ho ragazzi Abbiamo circa Allora ancora Sette pozioni Quindi Sette per otto Fa Quarantotto Non è vero E dove fare cinquantasei Così occhio No Sette per otto Bu Non me lo ricordo Asino cotto Diciamo Ok qua Diciamo che È una situazione un po' più diversa Qui è aperta Vediamo un po' E ma scende anche lì ragazzi Totale Ok Qui abbiamo più piani da esplorare E ovviamente qui Mi ricordo che c'era Oh la la Signorino Guardate qua Quante cavolo di ragnatele ci sono Ci sarà ovviamente anche uno spawn di ragnatele Scommetto eh Però io le ragnatele me le prendo tutte Perché ragazzi sono troppo totali Va uno stack penso che mi prendo O due 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 stack voglio io Due stack voglio Qua ci sarà lo spawner Dei ragni sicuro No Come mai non c'è lo spawner dei ragni Ragazzi vabbè Io tanto mi prendo tutte le ragnatele Due stack ragazzi Perché Qualche costruzione magari ci vuole una ragnatela No Almeno una Ciao amico Perfetto Forse c'è uno spawn di zombie Vabbè Io intanto mi prendo tutto questo Ok eccoci qua Prima mostricciato E che cavolo E che cavolo Ecco lo spawn Dobbiamo distruggerlo ragazzi Ok ok perfetto Perfetto Scappiamo 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 Dov'è dove dove Forza 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 Oh ragazzi Wow Boh qua ci sarà qualcuno incastrato Vabbè ma fa niente Vediamo cosa troviamo Un libro Aspetto di fuoco 1 Tocco di veluto 1 Questo me lo piglio Insieme anche al carbone E alla polvere d'aspero Ok vediamo un po' Cosa possiamo regalargli Regaliamo questo E questo E queste due ampolline vuote Perfetto Non c'è niente Ah Eccoli qua dove siete Eeeh Inutile che vi grabbiate tanto Momento Momento Momentino Mi state smaronando Oh caspita Quanto cavolo siete Quanto cavolo siete Aiuto Made me day Made me day Made me day Made me day Wow Wow Ragazzi Quanti cavolo erano E io ero shiftato anche Per quello non potevo scappare Maledetta Maledetta regnatela Che frettaceli Maledetta regnatela E muore Ok Spero che sono finiti E dai Che devo andare di là Io Uh Carbon Carbon Carbonella Ragazzi Carbonella Per tutti Ok Wow 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 Me la sono vista Veramente brutta Ragazzi Me la sono vista Veramente brutten Ok Ah qua siamo sulla bedrock Bedrock E dai è però Mannaggia Oh Ecco fatto Allora Continuiamo la nostra Exploration Però io ho detto Due stack Uh Carbon Ho detto due stack Due stack Li voglio io ragazzi Di ragnatele Perché Vi ripeto Questi Eh Siamo appena 18 Quindi devo prendere Ancora 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 Ragazzi Vado a fare un giro Neanche una cassa Però niente di niente Neanche uno spawn Di un bel niente Proprio Mannschaft Un po' Baggata Ragazzi Non ho trovato Neanche una cassa Ma vi rendete conto Qua c'è Nel ragnatele No Però Il Ferrus Lo piglio Perché Ne ho consumato Troppo Tanto Ultimamente E quindi Troppo E quindi È meglio Recuperarne un po' Allora Questi qua Li ho messo io Sì Quindi questa è una zona Che ho già visto E mo Comincio a perdermi Un po' Comunque Ragnatele Infinite Ragazzi Ragnatele Infinite Ce le prendiamo tutte Sinceramente Non ho preso neanche uno spawn Di ragni Di solito C'è lo spawn Di ragni Nella Mineshaft E quindi Non lo so ragazzi Che come Come Bu Vabbè Io continuo Comunque Tanto Vado avanti No Di qua non si va Uh Oro Oro Carbon Perfetto Ragazzi Perfetto Non posso chiedere Di meglio Ah C'è anche uno spawner Adesso Uno spawner Di ragnacci Quindi pieno Di ragnatele Perfetto Io lo spaccherò Ragazzi Io lo spacco Tutto E c'è anche Una Come si chiama Uno Uno Di quelli Bruti Delle gelatine No 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 Ok L'acqua Quasi Quasi La lascio Così mi fa Da barriera Si 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 Ragazzi L'acqua La lascio Aia Come cavolo E' fatto A prendermi Maledetto 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 Eh Questo qua Lo spacco Così Da dove Viene Sta roba Qua Cioè Stavo andando a fuoco Come Io Sento bruciare Io Qua Guardate qua Va a fuoco Tutto Non riesco a capire Perché E per cosa Vabbè Aia Aia Ma perché Va da fuoco Ma che cavolo C'è ragazzi Che mi fa andare a fuoco Ok Faccio così Resto qua E che cavolo Ma perché Va da fuoco Perché va a fuoco Tutto qua Ragazzi Che caspiterina Di cosa sta succedendo Qua Bu Ok Fatemi tirare via Un po' di Di ragnatele Così vengono da me Ci sarà qualche pezzo Di lava Che va a fuoco Ma Non riesco a capire Ok Oh Adesso già si ragiona Adesso posso andare A distruggere Lo spawn Piano Andiamo a distruggere Lo spawn Velocemente E ammazziamo Anche le gelatine Oh là Niente ragnacci Oh là ragazzi Queste qua Il blocco di Gelo Questo qua Ci voleva Un sacco Anzi addirittura Adesso se volete Ragazzi Posso anche chiudere Perfetto Questo qua Si è incastrato Tranquillo Tranquillo Vieni Vieni Tanto lo penso Che dovrebbe fare Neanche danno Questo È talmente piccolo Che Vediamo No Non fa neanche danno Ragazzi Non fa neanche danno Uh Il tesoro Il tesoro Ragazzi E vai Vedete che meritava Mi servono le palline Gelatina Quanto ne ho? Quattro Per fargli Sticky piston Ragazzi È una manna Ma là c'è un creeperino Che mi ha visto Chissà il creeper Se Vabbè Ok Ok ragazzi Finalmente Siamo liberi Quante Quattro 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 Se ce la faccio arrivare A tre stack Sarebbe l'ideale Ragazzi Sarebbe l'ideale Se arrivo a tre stack Sono super contento Ma quelle che ho Dai Anche due stack e mezzo Mi bastano Siamo pronti ad aprire La cesta Ragazzi Facciamo un chest opening Allora scommettiamo Che troverò Oro Un libro Forse pezzi di matura Poi pane Vediamo Ok Una targhetta E questa me la piglio Le torce Non me ne faccio niente Le torce Non me ne faccio niente Ragazzi Un bel niente Un bel fico secco Adesso ci metto Questi addirittura qua Per far capire Che Ci sono già stato Il ferro Me lo piglio Perfetto Ok Allora di qua Non si va da nessuna parte Quindi di qua Possiamo chiudere Chiuso Scusate a dirmi Che ho già L'inventario pieno No Non ho l'inventario pieno Però Ho mai me Ho poco Le cesoie Stanno cedendo E quindi Adesso io me ne vado di qua Prendo anche queste Di qua Non si va da nessuna parte Quindi chiudiamo Anche qui Prendiamoci questo carbone Tec Va che roba ragazzi Oh va che roba Va che roba Ok di qua Da sopra Non si va da nessuna parte Continiamo di qua Esplorazione Esplorazione Di qua Perfetto Prendiamoci un po' di Ok Saltano sempre milioni Adesso che mi serve Beh la devo addirittura Andare a scavare Ma vedete voi che Ogni tanto Ogni tanto Come funzionano le cose Ok di qua C'è un fico seco Però c'è una ragnatela E questa viene con me Adesso chiudiamo Qua non c'è un fico seco L'aragnatela Me la prendo Chiudiamo anche qui E non si va da nessuna parte E qua si scende C'è gioietta Perfetto C'è gioietta Ok qua Ecco qua Dove dovevo andare Perfetto Perfetto Andiamo di qua E dopo andremo a destra Uh lapislazoli Per adesso andiamo No anzi Scriviamo la regola della destra Siamo andando sempre a destra Mamma mia Oh è che Mi hanno fatto proprio rompere le scatole Questo giro qua Questo cavolo Mi hanno fatto rompere le scatole No Mi sono rotto le scatole Che me le rompo da solo io Perché questi qua Non è possibile ragazzi Ogni volta Ogni volta Eccolo qua Va bene che avevo anche il secchio d'acqua Ecco è vero Quando vado a fare mining È vero Ecco cosa avevo Al posto del cesoio Avevo il secchio d'acqua Me ne sono completamont Dimentiché E mo me lo piglio Perché C'è troppa lava Allora Quindi Cesoie Per adesso Qua No la pala Tiro via Ok Perfetto Secchiello d'acqua Così Spaccamo a shulker Torniamo a mettere le cesoie Tac E così ragazzi Siamo a posto Ecco l'effetto Sta anche per svanire Ok Adesso bevo un'altra pozione E poi ci rimane l'ultima Quindi gli ultimi 8-8-16 minuti Di Gloria Ok Vedete almeno così Possiamo andare avanti Uuuu Diamonds Ragazzi Mamma mia Diamonds Beh tutto lì Due Vabbè Ragazzi Meglio di niente Sto facendo un bottino Invidiabile Un bottino Invidiabile Tanto c'ho le mie Ben amate Cesoie Totale Ragazzi Totale Veramente totale Ok La Così Ok Di qua siamo a posto Adesso andiamo di qua Non c'è un bel niente Ma Comunque Buttare l'occhio Non fa male Guardate che comodo Ragazzi Andare in miniera Con un secchio d'acqua Guardate che roba Voi immaginatevi Solo Solo Andando Ecco vedete Non c'è un bel niente Immaginatevi solo ragazzi Andando Andando in giro A creare ponti Stradine Per Per passare sopra Lava Con il rischio di caderci Anche Ah La se passa Ancora Però là sopra Non so se sono già stato Comunque Continuiamo ad andare A retta Allora Ok Così evitiamo di farci male Anche qua Perfetto ragazzi Vedete Quindi destra Poi di nuovo a destra Qua non c'è un bel fico secco Poi dritti 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 No Sinistra No Andiamo Uh Lo spawner di prima Che gli posso regalare Questo 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 E basta E basta Sì Quindi di qua io ci sono stato Ok Quindi di qua siamo a posto E dobbiamo andare quindi sempre a destra Di qua Tappiamo il bouquet Mangiamoci la patatazza Boh ma di qua non c'è un bel fico secco Però c'è quest'acqua qua che mi da Leggermont Fastidio E quindi noi andremo a tapparla Voilà Oh la Uh Caspita come andavo veloce Ero super veloce Avevo Ok Quindi di qua sono già stato Adesso bisogna andare sempre a destra E destra 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 Non c'è un bel niente Destra Destra Qua Non penso che ci sono stato Perché In teoria Queste regnatele qua Non le ho preso Forse le ho Forse le ho saltate Forse le ho saltate Ok Destra Non c'è un bel fico secco Quindi Ci mettiamo Una bel pillarone Qua c'è Uh Quanto oro ragazzi Mamma mia Oh è che Ho trovato una roba assurda Guardate quanto oro ho trovato Guardate quanto oro ho trovato Mamma mia ragazzi E tu volevi scapparmi Ok Quindi di qua Bisognerebbe chiudere la lava Mega salto ragazzi Wow Non pensavo di riuscirci a fare Che tra l'altro ragazzi Scrivetemi nei commenti Quanti salti Riuscite a fare Con A minecraft Cioè Quello volevo dire Eccola lì Non così ma Cioè quanti blocchi in avanti Riuscite a saltare Perché io non lo so ragazzi Penso Io pensavo quattro Ma mi sa di più Mi sa molto di più Mi sa proprio Addirittura sei Quattro sono sicuro Perché Ah vabbè Questi qua non so quanti erano Uh che bello Far cronare la sabbia Eh Bello circa Perché c'è solo quello Vabbè Poi tutto qua Mi sa che l'ho vista tutta eh Vabbè ragazzi Io mi prendo ancora la Mi prendo ancora un po' di Della regnatele Quelle che trovo Perché onestamente Qua sono tutti i posti dove Uh oro Eh Sono tutti i posti dove sono già stato Perché per esempio qua Ok Qua sono già stato Qui non c'è bel niente Quindi Chiudiamo Di qua si va da qualche parte Di qua non c'è un fico seco Quindi chiudiamo E Mi prendo sempre le regnatele Ragazzi come sempre La mia firma sono Saranno le regnatele Sarò Spiderman ragazzi Del Di minecraft Farò lo Spiderman Che ne dite voi Potrei andare in giro per i grattacieli E tirare le lanciarle Le mie mega regnatele Super mega potenti Chi lo saprà Chi lo sa Ma Soprattutto Quando uno è scemo Beh non penso di essere caduto così tanto Ero qua su Esatto Sono caduto lì Perché Non voglio fare un salto Quindi Eccola lì Andiamo di qua Prendo Ok di qua sono già stato Di qua Sì Quindi anche di qua Si chiude Io andrei di Qua ci sono delle regnatele Dobbiamo scendere di qua Mi stai dicendo che devo andare di qua Proprio di qua dove non c'è un bel niente Oh che cavolo Mamma mia Oh E che è Con sto pavento qua Non si chiede permesso Tanto ho preso polvere da sparo Ragazzi che mi serve Veramente un sacco Perché Ho pochissimi razzi E devo farne Quindi Adesso prenderò Inizierò a prendere anche I lapislazuli Super mega Lapislazuli Comincerò a prendere Che mi servono Carbone ragazzi Tutti lo lasciano Invece io lo prendo Io non so perché Vedo altri youtuber Che vanno in miniera E lasciano tutti Io prendo tutto ragazzi Tutto Addirittura Tante volte Mi faccio una spedizione Solo di Di per esempio Di granito Lapislazuli Cioè per esempio Anche qua Se sono pochi Comunque servono Comunque servono Perché prima o poi Serve A parte che adesso La farm automatica Di kelp Di alghe Quindi Alghe cote Mi fa veramente Un disastro Veramente un botto Ragazzi Di roba Ma veramente un botto Ma un botto Un botto Quando uno dice un botto È tanta Tanta roba Abbiamo quasi tre stack Unici diamanti Caspiterina Questo è buono Questo è buono Ragazzi Qui non sono passato Neanche se volere Perché Questa roba qua Non è roba mia È roba che si è creata Da sola Quindi Wow Pensavo che c'era Il buco di lava Perfetto La Ecco Non c'è bel niente Quindi È la regola Che si va sempre a destra Me la sono già dimenticata Comunque Noi ci proviamo Quindi Di qua Non si passa più Destra Di qua Forse non sono stato Ma maniamo Perfetto Mangiamo ancora E Vabbè Continuiamo Continuiamo Perché qua ci vedo ancora Dei cunicoli Non so se ci sono stati Comunque ragazzi Solo una cesta È veramente Miserable È proprio Miserable Questa Questo E mo mi sono ripreso Anche la sabbia Che non la volevo Tiè Uh il carbone Uh ragazzi L'ultima pozione Di visione notturna Dopodiché Ce ne dovremo uscire Di qua Sono stato Eh Ho paura che se prendo Questo succede un danno Ecco Neanche detto Ma neanche tanto Neanche tanto ragazzi Neanche tanto Vabbè Facciamo finta Che io sto prendendo Qua le cose Diciamo Però Ragazzi Mi sa che io adesso Ormai Uh Mi sa che sono stato Dappertutto Eh Ok Bene ragazzi Ho finito Tutte le pozioni Che avevo con me Diciamo che abbiamo fatto Un buon Ottimo bottino Undici Undici diamanti Cinque Di polvere Di polvere Sì Di polvere Cinque di polvere Avete 4 di Oro Un libro X Carbono Abbastanza Queste Vabbè Me ne servono Per fare i pistoni Appiccicosi Anche se fino adesso Non li ho ancora Usati Però mi serviranno Un po' di resto Un quasi Tre stack Ragazzi Di ragnatele Benissimo Benissimo E Ah Una ragnatela Fa Quello Vabbè Comunque Diciamo che posso Finire qui Perché ragazzi Adesso me ne andrò In superficie Piano piano E quindi ragazzi Il nostro primo My shaft È stata Beccata Un po' di Cavolaccio Di Non mi è piaciuto Tanto L'unica Diciamo Il tesoro Che ho trovato Non ce n'era Solo quello Quindi una My shaft Un po' Buggata Come sempre Ma ci sono Abituato Ragazzi Ho questi Bug A queste Robe Ragazzi Quindi Come sempre Se questo video Vi è piaciuto Vi invito a mettere Mi piace Iscrivetevi al canale Che non sono De fatto E noi Come sempre Ci vediamo In un prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti